Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha firmato un'ordinanza contenente una serie di misure precauzionali stabilite a seguito dell'incendio avvenuto nella giornata di ieri nel capannone della Tommolini, situato lungo la strada Stata Le 16. La misura è stata adottata in via precauzionale mentre sono ancora in corso certamente da parte degli enti coinvolti, vigili del fuoco, arte e servizi ASL competenti, finalizzati ad identificare la natura delle sostanze messe nell'area a seguito dell'incendio. Fino a che non verrà comunicato l'esito dell'analisi, il Comune consiglia ai cittadini di Martinsicuro, residenti nel raggio di un chilometro dell'area del capannone incendiato, di mantenere chiuse finestre e porte delle abitazioni e delle attività commerciali e industriali gli impianti di erezione forzata. Inoltre, in attesa di acquisire le rivelazioni degli enti competenti, sono vietati la raccolta e il consumo di verdura, foglie e del foraggio per animali. Le misure precauzionali puntano a prevenire l'ingresso e la gestione di eventuali sostanze inquinanti sprigionate dalla combustione dei materiali edili stoccati nel capannone. Inoltre, il servizio veterinario, igiene ed alimenti dell'ASL di Teramo sta effettuando sopralluoghi urgenti presso gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale ubicati negli intorni e solo al completamento ci si augura stretto giro verrà comunicato l'esito al Comune costiero di Martinsicuro.